Grazie a tutti. 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 per me c'è la curva lì ma no, c'è il vantaggio dopo questo ne sono rimasti due uno si va a parlare va a brisso va a brisso, si asce lontano e casca sempre vendo Starenzo, sentimmi se stava lì si, stava con me questo è il primo a Stefano, finisci la corsa, è rimasto un giro questo è il primo questo corre insieme a Croso insieme a Mariuccio il giro da Vizienia ecco la curva qua stanno vicini pure questi insomma se tutto va bene quest'anno sono trattati se riesco a armare mi hanno fatto tuffe io mi sono trattato sono tornati 4 anni cosa mi hanno voglia quest'anno no, io come capitato sono una coglia se non ho mai detto se ho capito di tutti ho capitato perché sono un ruolo e si è artiglipiano, che cazzo va? c'è, c'è, c'è ecco la minuta via, via a mezzo grazie a Flavio grazie a Flavio fermati 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 grazie a tutti grazie a tutti